Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di FIFA Ultimate Team, la roda to glory trash. Questa è la formazione di oggi, vediamo chi cambiare. Se ho voluto cambiare un po' la formazione, giochiamo un po' con questo 4-3-3, così per farci male. Siamo in divisione 8, andiamo a giocare. Allora, avversario trovato, andiamo a vincere. Vediamo le squadrone A, ha un allenatore... ok, no! Ma possibile che a Zard ce l'hanno tutti? Questo chi era sbussato con quello del Natalizio, cioè Lukaku che è buchino, Lukaku no, Lukaku no. Mamma mia che miracolo! Cazzo... Oh ma no, ma no, ma no! Ma no, ma no! Vai! Eccolo! Che cazzo ho fatto? Che minchia ho fatto? Me l'immaginavo che da lì si segna sempre, ce lo sapevo, guarda, ce lo sapevo. Eh vabbè, non gli posso fare niente, però qui i gioveri forti hanno loro... Roberto... Bravo! L'arbitro dice che si può giocare... Sì, corretto... E andiamo! Il pareggio di Martigno! E andiamo! E vai! Va, fa' il culo! A tutti, non so chi a tutti. Anche i miei giocatori, sì. A col di Martigno che non ci crede tra l'altro. Ho segnato io, sì, sì, ho segnato io. Pum, diciamo se qui non segna mai, invece stavolta segna. Bel destro. Che fiume nel portiere che non mi ricordo chi è. Fa' la colpa mia. Oh, oh, oh! Martigno! 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 Doppietta! Non mi ricordo come ti chiami, Martigno, va bene lo stesso. Due a uno. Questa è un vantaggio. Di no in Bucata. Prende gol di fotocopio di primo, quasi. Sempre di boom! Il portiere non la prende. Raffaele Martigno, sì. Occhio attraversone. Per chi? Oh! Mamma mia! Tripletto di Martigno, veramente, eh! No, che Bucchino, Lucato. Gran parata, però. Grandissima parata di Gabriel. Oh, che cazzo fa il portiere? Che cazzo fa? Mamma mia! Ah, fuorigioco. Ecco il primo l'ha presa. Un cos'ù! Un cos'ù! Tira! Ma che cazzo di parata ha fatto? Non ci credo! Che cazzo ha preso? Che aglio, soldato, soldato, soldato rientra! Portiere la prende! Che culo! Ma dai, che cazzo? Sei rincoglionito, sei? Finisce qui! Finisce qui! Sono anche incazzato! 2-1 per noi, rimonta! Tutto il primo tempo è accaduto. E per fortuna abbiamo vinto. Eramo sfavolutissimi. Pensavo di perdere di brutto all'inizio. Ha filato un culo, Azar. Seconda partita. Questa è la formazione in tre. Soltanto un Bakogu e sesto. Per il resto non cambia nulla. Ok. Seconda partita. Squadra che... Subutit ce l'hanno tutti in difesa. Un altro che non so chi sia. Snyder. Seneo bene. Speriamo bene. Vai in Bakogu. Sesto! Vantaggio Fax Max. Sesto! Il gol di Sesto. Pensate avergli la messa male. Invece no. Ta! La mette dentro. Lì non poteva sbagliare. Alessio sei stu. Cazzo guarissimo di merda. Tutti i buggati che corrono. Puro loro hanno. Sì, la madonna. E che è? Ma dai. Ma vaffanculo. Gol di merda. Cioè, a portiere pure. Ma copre il primo palo. Poglione. Abdull. Ma ci due aris. Così. Bakogu! Prende male. Così. Bakogu! E finalmente il gol. C'è il rimba. C'è il rimba. Il nigeriano. Di nuovo in vantaggio ci porta. Di nuovo in vantaggio. Questo è un gran gol però. Pamma. Cioè non si prende. Non la prendi mai quella. C'è il rimba. Koko. Quindi il 2 a 1. Corro anch'io col mio. Oh. E c'è il gol. Ben ti voglio. E anch'io ben ti voglio. Sì. Spettacolo. In 2 minuti. 2 gol. E questo è un bel gol anche questo. Pum. Di estero destro al tirato. Simone ben ti voglio. Sì. Peruzzi ci prova. Peccato perché la palla si abbassa troppo tardi. Per farli praticamente uguali. Oh. Ma che. 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 Che cazzo. Martigno. Miracolo del portiere. Miracolo. Non so buono. Non ti voglio. È troppo alta la conclusione. Se qui non mi ci fido neanche per il cazzo. Che cazzo è successo? Ma dai. Guarda. Ma ti pareva? Io me l'immaginavo. Guarda. Ma perché rosso? Perché? Che cazzo è successo? Porca puttana. Eccolo. Ma vaffanculo va. Ma che cazzo di fallo era? Ma palla lontana poi. Che cazzo era? Oh. Oh. Martigno. E' di nuovo inventato i tuoi gol. Un grandissimo gol di Martigno. Che gol. Vaffanculo. Tacof. Si vuol dire. Guardate. Penso di averla persa. Iniziano. Quella non si prende di palla. Rafael Martigno. Schiavo uno però eh. Sestu. Un gol pazzesco. Doppietta di Sestu. Ma questo è un gol stupendo. Bo. Che gol ha fatto. Guarda. Cioè ma che cazzo di tiro ha fatto Sestu. Mamma mia che gol. Non me l'aspettate. Penso di essere tirata alta la palla. Ragazzi. L'avversario ha risquittato. Ha fatto bene. Perché era finita la partita. Se pensavo come si è pure incazzato. Quindi ragazzi. Direi che abbiamo fatto una scorpacciata di gol. Con questo ho fatto 7 gol in 2 partite. Non è male. Andiamo a 6 punti. Quindi. Andiamo a 6 punti. A 2 punti dalla salvezza. E a 6 punti. Quindi se facciamo altre 2 vittorie di fila. Nel prossimo episodio. Andiamo a 4 a 12. Andiamo subito in divisione 7. Io ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo un prossimo episodio. Ciao.